L'internet sta cambiando tutto, oggi ogni processo, ogni faccio, ogni comportamento è stato influenzato dal web. Abbiamo scelto il dominio.io proprio per aiutare la comunicazione di Andreola a trovare fin da subito una dimensione internazionale. Abbiamo sempre fatto l'idea che un'ice brand come questo dovrebbe avere la capacità di qualcosa di più grande. Quindi abbiamo scelto .eu come domani. Credo che vogliamo essere collegati con il resto del mondo, con l'Europa. Non vogliamo solo limitare l'Italia, quando c'è tanto potenzialo in tutto l'altro. Quindi credo che avere .eu aggiungi l'esercito alla nostra firma. L'apertura di EU per dire europeo, per dire che anche noi apriamo la nostra mente, ha un oltre confine che non è solo l'Italia, ma ormai è tutta Europa. Siamo basati in uno dei più piccoli paesi, che è il Portugale. Ma siamo in Europa. Siamo orgogliosi di essere in Europa. E' come una brand in itself. Quindi sì, credo che sia buono usare l'Europa. Grazie a tutti.